Saluto tutti i partecipanti all'iniziativa organizzata dal Comune di Grassano, alla quale sono davvero felice di contribuire sebbene a distanza. Ho molto apprezzato la decisione di ricordare l'istituzione, il 12 ottobre 1951, della Commissione d'inchiesta sulla miseria. Con quella scelta il Parlamento dimostrò, dopo il ventennio fascista e la devastazione della guerra, di considerare imprescindibile acquisire una base solida di conoscenza e valutazione delle effettive condizioni economiche e sociali della popolazione e dei territori. Affrontò l'impegno affermando un metodo di lavoro che è divenuto poi uno degli elementi essenziali della propria attività. Al tempo stesso, attraverso l'inchiesta sulla miseria, emersa la capacità del Parlamento di operare come istituzione pensante e culturale, un concetto che ritengo fondamentale. A dare consistenza all'impegno delle Camere si pose l'ampiezza stessa del mandato della legge istitutiva che fu espletato con un'articolata attività, combinando tutti gli strumenti e le procedure conoscitive a disposizione. Il vostro Borgo di Grassano fu scelto, grazie all'iniziativa dell'On. Gaetano Ambrico, come Paese campione per realizzare un'indagine speciale ai fini di una valutazione approfondita della situazione di una comunità rurale considerata nella sua struttura economico e sociale. Quest'opera poderosa richiese circa tre anni di attività e portò all'approvazione di una relazione generale condivisa all'unanimità da tutti i gruppi rappresentati nella Commissione, altro elemento di grandissimo significato storico e politico. La relazione offrì una base preziosa di conoscenza sulla povertà in tutte le sue drammatiche dimensioni, dal grave disagio abitativo alla mortalità infantile, e indusse una serie di interventi nel settore assistenziale. Purtroppo occorre riconoscere che ancora oggi, a 70 anni di distanza, la piaga della povertà continua a esistere così come gli squilibri sociali e territoriali. L'Istat ci ricorda che nel 2020 ci sono ancora oltre 5 milioni e mezzo di persone in povertà assoluta. Questo ci fa comprendere il ruolo fondamentale di una misura etica come il reddito di cittadinanza e deve richiamarci ad un'azione ancora più incisiva che ci consenta di ridurre le disuguaglianze nel nostro Paese. Allo stesso modo occorre ragionare su un affinamento degli strumenti esistenti, soprattutto per favorire le politiche attive del lavoro. C'è un obiettivo chiaro però da perseguire, non lasciare nessuno indietro. Era questo il proposito che espirò 70 anni fa l'azione del Parlamento ed è questa ancora oggi la sfida che non solo il mezzogiorno ma tutto il Paese deve portare a termine con successo. Ed il Parlamento è e sarà sempre in prima linea in questa direzione. Con questo impegno ribadisco il mio più sincero apprezzamento per la vostra iniziativa.